buongiorno bella gente bentornati nel mio canale oggi vi compagno al miei come faccio le mie unghie io faccio tutto a casa per chi mi segue per chi sa io faccio quasi tutto tutto a casa le unghie ho cominciato a farli all'incirca quattro anni fa e proprio autodetatta seguivo dei video su youtube e cominciato a farmi le unghie a casa perché un motivo c'è qua in spagna non c'è l'obbligo di sterilizzare il materiale per le unghie io all'inizio li facevo li facevo qua li facevo ho provato vari posti e poi mi sono informata ho capito che proprio qua non sterilizza non c'è l'obbligo di sterilizzare quindi alcuni posti alcuni posti addirittura fanno sterilizzano fine giornata quindi dopo che hanno fatto 10 clienti 20 clienti sterilizzano fine giornata quindi vi lascio immaginare lo schifo io non ce l'ho fatta proprio quando l'ho scoperto e quindi ho comprato il materiale e ho cominciato a farmi li a casa piano piano mi sono migliorata e quindi piano piano ho cominciato a farli io non sono un estitista ma li faccio da sola a casa per esigenza dunque io questa volta non ho rotto neanche una delle unghie quindi solamente lo unghie solamente lo limate adesso lo limate e ho tolto lo smalto adesso vado ad applicare il primer che praticamente toglie via l'acidità o il grasso dalle unghie e vado a passarlo nella lampada se voi se volete nella descrizione vi lascio la lampada che ho comprato su amazon o tutto il materiale l'ho comprato direttamente da amazon e quindi vi le lascio io lo sto usando ad esempio l'ultimi colori che ho comprato non so quanti mesi fa almeno sei mesi fa che l'ho comprati mi stanno finendo perché a me piace tantissimo usare i colori neutri mi piace fare tipo due tre dita neutre le altre un po più bizzarrita coi colori con le fantasie adesso vado applicare il base coat che vi lascerò comunque sotto nella descrizione e tutti questi materiali che sto utilizzando smalte base eccetera perché comunque sono cose economici non sono tanto care ma soprattutto sono cose che vi durano un sacco di tempo infatti ho comprato l'ultima volta ho comprato il kit di gel che applico un specie di pomata che si mette sul tip e il tip lo applichiamo sulla sulla unghia poi li facciamo asciugare questa volta ho avuto proprio avevo voglia di rosso perché da un sacco un sacco un sacco un sacco di tempo che non lo applico l'unica cosa che questa marca questo rosso è abbastanza chiaro e quindi non dà colore al prima applicazione e quindi non lo passo almeno metto il colore tre quattro volte dipende se lo voglio più intenso più forte meno forte uso materiali casalinghi come il suzzicadente adesso per fare questa decorazione che mi piace ogni tanto farla di solito la faccio con vari colori ma questa volta qua faccio solo bianco rosso e nero che di normale ne metto una quantità di colori non so questa volta mi è venuta questa voglia di farle così o diverse marche nel corso degli anni ne ho comprati gli ultimi quattro anni alcuni lo già finiti alcuni ne ho comprato la stessa marca alcuni no però io sono più tendente a comprare marche nuove perché mi incuriosiscono tranne l'ultima volta che ho comprato la stessa marca che poi nella descrizione vi la lascio e come vedete col il suzzicadente comincio a dare delle forme e soprattutto riportare lo smalto nei punti dove non ho non l'ho toccato quella con i punti scusate che nell'audio vi usciranno il rumore dei messaggi che mi arrivano e vola li diamo una pulita e la decorazione pronta invece le altre dita sinceramente li faccio un colore neutro perché ultimamente cominciato a piacermi tanto perché una volta di state più che altro di stade mi piace tantissimo lo smalto molto rimane molto colorati con vari colori rosa soprattutto il fucsi il verde il giallo l'arancione mi piacciono tantissimo però adesso con l'autunno e avevamo più bisogno di colori più 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 rosso non è proprio un colore neutro però avevo proprio bisogno di farlo infatti nei prossimi giorni dovrei fare il pedicure che i miei piedi ne hanno bisogno che da una vita che non faccio lo smalto ai piedi perché ho fatto il semi permanente e mi dura tre mesi ai piedi perché crescono meno le unghie dei piedi confronto a quelli delle mani perché ad esempio lo smalto facendo questo trattamento a me mi dura all'incirca tre settimane poi ovviamente se mi si rompe una unghia la rifaccio se mi stufo del colore più che altro quello che mi succede io mi stufo del colore e quindi le rifaccio alcuni disegni ad esempio sono tornata a rifarli altre un pochettino meno però ultimamente come vi ho detto punto tantissimo su un neutro su almeno un colore neutro gli altri pazzeschi mi piace tantissimo giocare col bianco e nero adesso che ho fatto vari passaggi e il colore c'ha la tonalità che a me piace basta vado a mettere il top coat che comunque l'ho comprato nell'ultimo pack che ho preso dei smalti che erano un buzz coat un top coat e altre quattro colori quindi fa benissimo credo che l'ho pagato sul 12 euro su amazon validissimo i colori sono belli durano abbastanza l'unica cosa che io quando lavo i capelli il colore neutro tende al rosso di solito ha bisogno di due tre giorni così si toglie via perché ci metto il crazy color e quindi quello mi macchia tutto come mi macchia gli asciugamani il lavandino la doccia e il bagno in generale quindi ogni volta che io mi lavo i capelli devo passare con la candegina ovunque il mobile le gocce mi scappano via anche senza volerlo quindi io il bagno ce l'ho sempre macchiato anche qua passo il base coat come vedete lo limati vedete proprio si vede la differenza tra la il gel e la unghia però lo limate bene che non si nota la differenza se lo tocchi li vedi non si nota tanto la differenza anche qua puntini 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 e aggiungo e faccio una bella linea un po' irregolare su tutta l'ughia e poi rimane a me il disegno che vuole se voglio più rosso se voglio più nero se mi piace più bianco dipende ovviamente non sono uguali però a me piace mi piace il diverso comunque sono una che le piace tanto fare il fai da me tanto finché se c'è qualcosa che non so fare ovviamente vado dei professionisti però ad esempio se mi piacerebbe tanto tornare a fare il mio trattamento quello di l'occhiaie adesso ce l'ho veramente terribili mi piacerebbe tanto a farlo ovviamente io queste cose qua assolutamente mi piace andare dai professionisti mi piacerebbe una volta ogni tanto andare a fare la pulizia del viso da un centro estetico anche se a me ho tutto il materiale mi piace tantissimo farmelo da sola però se io trovo un posto che mi piace che mi fa un trattamento un po' particolare e mi piace andare la ad esempio la ceretta io non la uso perché c'ho la pelle molto sensibile mi fa venire i brufoli non la faccio la ma non faccio da vestitista mi piace farmi passare piuttosto il cirque peel e adesso d'inverno mi faccio il mio trattamento con la luce pulsata altre cose il parrucchiere sì una volta ogni tanto vado a farmi il colore adesso sono almeno due anni che non vado a farmi il colore però voglio voglio curare un po' i miei capelli a casa e niente perché comunque ognuno di noi ha le sue capacità io sono molto portata a fare fare le cose in casa anche pitturare cose mi piace tanto cucire lavorare a maglia sono molto portata a questi lavori manuali mi piacciono proprio tanto curare le mie piante anche tante volte non è che mi esce bene però bene ve ne sono contenta belle gente se vi piace questo video se vi piacciono i miei video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e grazie per tutte le persone che mi seguono le persone che mi scrivono le persone che mi sostengono ci sono tantissime persone davvero sono molto molto contenta l'altro giorno mi è arrivato un commento su facebook di una signora con il sfondo della sua pagina l'immagine di Gesù Cristo dicendomi a me nel mio video che ho fatto per il shampoo che si sono si sto facendo vedere il shampoo facendo vedere il sedere si vede che la signora non è mai uscita per strada per vedere cosa c'è poi vabbè sono fortunata che sono una persona molto positiva non non do tanta importanza però mi ha fatto tanto ridere piuttosto di guardare il il video di che parla magari gli piace non gli piace commenta il mio aspetto mi sembra un po ridicola per la gente davvero vi ringrazio tantissimo ringrazio tutte le persone che mi scrivono cose davvero molto belle sono veramente fiduciosa nelle persone nel mondo che ci sono delle persone davvero meravigliosi positivi allegri ti trattano bene anche senza conoscerti vi voglio un mondo di bene e mi date la forza di portare avanti col mio canale grazie a tutti un grandissimo bacio ci vediamo domenica